Articolo 54. Se nessuno chiede di intervenire, lo metto ai voti, la votazione è aperta. Chi non riesce a votare? Prego, Marco Di Stefano. Fabri. Braga. Ok. Altri? La votazione è chiusa. Presenti 429, votanti 295, astenuti 34, maggioranza 198, favoriti 361, contrari 34, la Camera approva. Siamo all'articolo 55, dove c'è l'emendamento 55.1 e l'emendamento 55.2. Mi conferma nel parere contrario i relatori del Governo. Se nessuno chiede di intervenire, pongo in votazione l'emendamento 55.1, la votazione è aperta. Milanato. Chi altro non riesce a votare? Dall'Ai. Altri che non riescono a votare? La votazione è chiusa. Presenti 431, votanti 336, astenuti 95, maggioranza 169, favorevole 364, contrari 272, la Camera respinge. 55.2 Grimoldi. Se nessuno chiede di intervenire, lo pongo ai voti. La votazione è aperta. Giacomoni. Giacomoni. Qualcun altro che non riesce a votare? Al che non riesce a votare? Tripiedi. Bene. La votazione è chiusa. Presenti 429, votanti 330, astenuti 99, maggioranza 166, favorevole 56, contrari 274, la Camera respinge. Siamo alla voto sull'articolo 55. La votazione è aperta. Votiamo l'articolo 55. Chi non riesce a votare? D'Ambrosio. Buona fede. Altri? La votazione è chiusa. Presenti 425, votanti 393, astenuti 32, maggioranza 197, favorevole 386, contrari 7, la Camera approva. Siamo all'articolo 56, dove ci sono un certo numero di emendamenti, 56.1, 56.2, 56.3, 56.4, 56.5, 56.6, 56.7, su cui ho la conferma del parere contrario sia da parte del relatore che del Governo. Quindi cominciamo con 56.1 Grimaldi, se nessuno chiede di intervenire, la votazione è aperta.